Non so se si riesce a percepire la dimensione della sala, però... Non so, c'entranno 12 milioni di persone. Siamo pronti? Chi è il nostro maestro? In assoluto è Filippo Candio. Filippo Candio. Ecco qua. Filippo Candio è il nostro maestro, il re indiscusso della serata è lui. Filippo Candio sul podio, GALB, ma solo secondo. Secondo sei arrivato. Esatto, second seat for GALB and first place to Filippo Candio. Stendi con la scena per lui. Grandissimo. E allora, senso torbo, hai rotto i coglioni. È sotto lo spark. Sta arrivando l'happy hour a vivere, vivere. Poi c'è la prima dei mondiali. Stiamo andando a sbancare il blackjack. Voi direte dove, al casino, no. Sott'acqua. Sott'acqua, nella pool. Perché qui nella pool c'è il tavolo di blackjack. E noi adesso lo sbancheremo. Dentro quella busta ci sono un secchio di dollari. Ma noi dollari, un secchio di dollari. Guardate l'ontananza. Blanco è la sfidante. Secondo noi vincerà tutta la vita la sfidante. Non può vincere mai. La signora è arrivata a 195. Si seppellirà tutti. Ha vinto lei. Ha perso. Blanco ha smesso. Invece la signora ranna. Glielo comunichiamo. Oh, lei è ancora ranna. Lei è ancora ranna. Guarda il tempo, guarda l'ora e dice Troppo poco per me. Invece Blanco ha smesso e ha perso. Si è arrivato secondo. E' arrivato secondo. Certo. Siete due birloni. Ok. L'ha proprio doppiato. Ragazzi, l'ha doppiato. Ma si mette con un braccio e tira giù e su con un braccio per dire coglione. Che forza che ha. Incredibile. Incredibile. Umiliato. Non ce la farà mai. Con tutta l'acqua. a lei neanche l'acqua vestita da sera. Blanco in tenuta ginica. In teoria non c'è la partita. Ancora ranna. Ranna, ranna, ranna. Ranna da morire. Aspetta, fermate. Fermate un attimo. Fermate. Vai un po' dietro. Un po' dietro. Per la stampa. Ci serve un pochettino che vieni dietro. Dietro ancora. No, ma se vedi che si. Perché dobbiamo fare la ripresa a blanco. c'è stata una sfida. Abbiamo scommesso. Su chi di due due? Mettete. Guarda. Nessuno di due è scommesso su Italia. Incredibile. Abbiamo vinto a tutti e due. Italy. Yeah. Volevo al top campione. Eh? Venite dalla grande. One time. Giocato. È quello che segue il calcio. Volevo al top campione. Siamo sulla terrazza del Voodoo. Mite Club. Sto facendo la presentazione dei November 9. Ecco lo mostro. Un mostro sulla Cine, dai. Ecco il mostro. Che spettacolo. Quanto sei bello. Oh, ma quanto hai fatto di dieta? Quanto sei bello. Dai, 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 spaccaluccio. Siamo tutti là, siamo tutti là. Siamo in un momento pazzo. 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 Cosa c'è di blanco che sta in concentrazione? Sto a morire. Sto a morire. Ma ho detto, ma ho detto, ma ho detto, si sta facendo una pipettina, ma ho detto. Grande calda. Siete, vedi, è una risoluzione. Asso, asso. Asso, asso contro asso, cappa. Aspetta. Cazzo. Cambio, asso, asso. Andiamo, 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 Filippo. Asso, asso, brutte notizie per Sirano. Dai, dai, ragazzi, dai, dai. Brutte notizie. Era un po' sgamato. Canta, 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 baciami ancora. Filippo. Baciami ancora. È leggermente teso. Attenzione, questo potrebbe essere un double up importantissimo. Forza, Filippo. Dai, che gioemele nel baratro. Ah, guarda la due. Guarda, guarda la due. Era cristiano quello, mi sembra. Non ci sta dentro, non ci sta dentro. Sì, sì, è Cri, è Cri. Silvio di fianco a lui. Guardali, guardali. Deve evitare quattro cuori, perché lo copre anche a quadri. Nel baratro veramente due a mele. Deve pizzicare solo una scala, si balla. Vai, vai, vai. Vai, niente cuori, niente cuori. Niente cuori, è quasi true in dead. Solo il 2% per due a mele. Un runner, runner, qualcosa. Quanta scienza, signori. Fantascienza. Fantascienza. Potrebbe essere true in dead. A scerna. La cantante baciami ancora. Baciami ancora, canta Filippo. Ha sbroccato. Vai, vai, vai. Canta Filippo, da buon arco. Siamo a 30 milioni. Guardali, guardali lì. E sì, la notte belgeracca si rincarca. Lo hai preso, lo hai preso. Questo è il momento. Lo hai preso. Eh sì. Mamma cazzo, piace. Come posso? E andiamo. Come me? Scusate, ma ci siamo emozionati anche qui, ragazzi. Io ci sarò commossissimo. Infatti sono... No, no, questa è impagabile. Momenti impagabili. Questa maglia se la mettiamo per terra, cammina. La classe è pulita. Ah, è pulita grande. Che classe, Calv. Rapido aggiornamento. Facciamo un rapido aggiornamento per la cronaca. Facciamo con l'avvocato. Esatto. Allora, qui ci abbiamo. Te gioca dove l'erci. Filippo c'ha un milione e sette. Into the pocket. Però, c'è uno scalino in più. Vorremmo, vorremmo scalino. Che tra l'altro giriamo al numero due. Giusto, si gira al numero due. Vai tranquillo. Due milioni uscino che ci parebbe piacere. Mamma mia, ragazzi. Una fracca. E' una cosa incredibile. Raizner. Siamo usciti dal Texas, dal Brazil. Dove abbiamo festeggiato insieme al grandissimo papà. Candio. Il grandissimo risultato. e Galb si è permesso di riservare una utilitaria. Vuoi fargli la domanda? Sì. Roberto, scusai. Fagli la domanda. La domanda è... Ti volevo chiedere... No, ti volevo chiedere io. Scusami di altro tempo. Aspetta, te ne ho fare una domanda. Roberto, prego, prego. Fai la domanda. Gianluca, dai cazzo, fai la domanda. Ma che cazzo c'ha in testa? Sei brutto. Come si fa a fare un figlio campione? Ma che cazzo è tu? Ah, fai culo. La luta, cazzo. Giancarlo, cazzo. Ed è così che Traveler Anders persi il 50% di scuola. E' fatturato. Questa è la nostra. Dove sta la nostra? Non manca, Filippo, proprio come vai. Lo sta venendo. Oh, ti siamo persi il 50% proprio sul momento giù tuo. Cazzo. Lo sta. La facciamo a te, tra l'altro. Stiamo venendo. Stavo a scuola. Eccolo! 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 Goli numero 4! Vipa! Che cazzo!